Prima ancora della vitale La finale olimpica non è cosa facile Sono riuscito a trovare l'energia giusta Gli avversari forse giusti Io con gli inglesi Storicamente Storicamente ci ho sempre tirato molto bene Poi mi hai fatto sblocco E con i due anni non ho mai Non ho mai veramente trovato una chiave Una chiave di lettura Cioè hanno forse una scherma opposta alla mia Non ho grandi chance Dispiace perché comunque Una finale olimpica Io ne avevo già fatta una Ad Atene che era la prima E l'argento è bellissimo Meraviglioso Quando vedi l'oro a portata di mano Ti brucia Ti rode a distanza di anni Poi ho rivalutato quell'argento Come rivaluterò sicuramente questa Una bellissima medaglia La mia ultima Quindi di una carriera lunghissima Dal 2002 Bene, bene chiudere con questi ragazzi Con questa squadra E mi ha dato Così un mio contributo Per arrivare Quanto meno alla finale Alla finale non sono riusciti a dare Lo stesso contributo della semifinale Però È così Alla finale non sono riusciti a dare Alla finale non sono riusciti a dare